Il Comune di Invorio sta partecipando al censimento promosso dall'Istat, i miei co-cittadini sono stati informati ma davvero vi invito ancora una volta ad aderire, a partecipare, a rispondere con onestà e correttezza a questo censimento perché è un modo per capire quali sono i tempi del 2018 e capire un po' come sono le famiglie, come vivono, qual è l'orientamento e conoscerci meglio è sicuramente un aiuto per tutti. Grazie